Sei in ritardo Shinji Mi hai tradito, hai tradito i miei sentimenti, mi hai tradito proprio come mio padre Lo 0-1 ha raggiunto l'ottavo settore e sta entrando in contatto con l'obiettivo Eccolo Ti stavo aspettando Shinji Kaoru Perdonami, Asuka La serie degli Eva, progegni di Adam, stirpe data all'odio dagli esseri umani Eppure sfruttata dai Lilin per la loro sopravvivenza Io non riesco a capire Kaoru, fermati! Perché è tutto questo? Gli Eva sono costituiti dalla mia stessa sostanza Poiché io stesso discendo da Adam In assenza dell'anima è possibile assimilarsi E l'anima di questa unità si sta ora volontariamente serrata Esatto! Voi Lilin usate chiamarlo così Il sacro dominio che non può essere violato da alcuno La luce dell'anima Dovreste saperlo anche voi Lilin Sapere che gli Atti Field sono le mura dell'animo che tutti possiedono Io non so niente di simile Kaoru No!